Questo polo, cioè il punto più lontano dagli uomini di tutto il regno, si trovava nel massiccio centrale dell'Uvergne, circa cinque giorni di cammino a sud di Clermont, sulla cima di un vulcano alto 2000 metri chiamato Plôme du Cantal. La montagna consisteva in un enorme cono di roccia grigio-piombo ed era circondata da un alto piano immenso, brullo, coperto soltanto di muschio grigio e di sterpaglia grigia, da cui qua e là si innalzavano cime rocciose simili a denti cariati e pochi alberi carbonizzati da incendi. Anche nei giorni più luminosi questa regione era talmente triste e inospitale che il pecoraio più povero di questa provincia, già di per sé povera, non vi avrebbe mai condotto le sue bestie. E la notte, poi, alla pallida luce della luna, nel suo desolato squallore sembrava appartenere a un altro mondo. Persino il bandito Auvergnate e Lebrun, che avevano cercato ovunque, aveva preferito inoltrarsi nelle Sevenne e là a farsi prendere e squartare, piuttosto che nascondersi, nel plomb du Cantal, dove è certo che nessuno l'avrebbe cercato e trovato, ma è ugualmente certo che sarebbe morto di una morte per lui ancora peggiore, quella della solitudine a vita. Per miglia e miglia attorno alla montagna non vivevano né esseri umani né comuni animali a sangue caldo, soltanto qualche pipistrello, qualche coleottero e qualche serpente. Da decenni nessuno aveva scalato la cima. Grenouille arrivò alla montagna in una notte di agosto dell'anno 1756, quando spuntò l'alba era in vetta. Non sapeva ancora che il suo viaggio era finito, pensava che fosse soltanto una tappa del percorso verso atmosfere sempre più pure e si girò tutto intorno e lasciò che il suo naso visionasse l'imponnente panorama del deserto vulcanico. Ad est, dove si trovava il vasto altopiano di Saint-Fleur e le paludi del fiume Rieu, a nord, nella regione da cui era venuto e dove aveva vagato per giorni attraversando le montagne carsiche, a ovest, da dove la lieve brezza del mattino gli portava soltanto odore di pietra e di erbe dure, e infine a sud, dove le propaggini del plomb si estendevano per miglia e miglia fino alle gole tenebrose della Trouillère. Ovunque, al limite di tutti i punti gardinali, regnava la medesima lontananza degli uomini e nello stesso tempo qualsiasi passo in quella direzione avrebbe significato un maggior avvicinamento agli uomini. La bussola girava in tondo. Non indicava più nessuna direzione. Grenoie era giunto alla meta, ma nello stesso tempo era prigioniero. Quando si levò il sole, si trovava ancora nello stesso punto, con il naso in aria. Si sforzava disperatamente a difiutare la direzione da cui poteva provenire il minaccioso odore umano e la direzione opposta in cui doveva continuare a fuggire. In ogni direzione temeva di scoprire ancora una traccia nascosta di odore umano, ma non c'era nulla. C'erano soltanto pace. La pace, se così si può dire, dell'olfatto. Tutto attorno regnava soltanto l'aroma uniforme che alleggiava come un lieve fruscio delle pietre morte, dei licheni grigi e delle erbe disseccate. Null'altro. Grenoie impiegò molto tempo per credere a ciò di cui non sentiva l'odore. Non era preparato alla sua fortuna. La sua diffidenza lottò a lungo con la sua convinzione. Quando il sole si levò, chiamò in aiuto persino i suoi occhi e perlustrò l'orizzonte cercando un minimo segno di presenza umana. Il tetto di una capanna, il fumo di un fuoco, uno steccato, un ponte, un gregge. Portò le mani alle orecchie e ascoltò, cercando di percepire la filatura di una falce o la baiare di un cane o il grido di un bambino. Tutto il giorno restò immobile nell'ardente calura sulla cima del plom du Cantal, cercando in vano il più piccolo indizio. Soltanto al tramonto del sole la sua diffidenza si mutò a poco a poco in una sensazione d'euforia sempre più forte. Era sfuggito al detestato odium. Era davvero totalmente solo. Era l'unico uomo al mondo. Un'immensa gioia proruppe in lui. Come un naufrago, dopo un viaggio di settimane alla deriva, saluta estatico la prima isola abitata da esseri umani, così Grenoie festeggiò il suo arrivo sul monte della solitudine. Emise, grida di gioia, gentò lontano da sé zaino, coperte e bastone, e pestò i piedi in terra, levò in alto le braccia, danzò in tondo, urlò il proprio nome e quattro venti, serrò i pugni e rimostrò con trionfo la terra che si stendeva vasta sotto di lui e al sole calante. Con trionfo, come se lui in persona l'avesse scacciato dal cielo. Si comportò come un insensato fino a notte inoltrata. Trascorse i giorni seguenti a organizzarsi sulla montagna perché era deciso non abbandonare tanto presto quel luogo benedetto. Per prima cosa fiuttò attorno, cercando l'acqua, e la trovò in una fessura della cima, dove scorreva in un rivolo sottile lungo la roccia. Non era molta, ma dopo aver leccato con pazienza per un'ora aveva quietato il suo bisogno di liquidi per un giorno. Trovò anche del nutrimento, e cioè piccole salamandre e bisce d'acqua che inghiottì con pelle e ossa dopo averne staccato la testa a morsi. Inoltre, divorò licheni ed erbe e bacche secche. Questo modo di nutrirsi del tutto impensabile secondo le norme borghesi non gli causò il minimo disturbo. Già nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, non si era più nutrito di cibo preparato con sistemi umani, come pane, salsiccia e formaggio, ma quando sentiva lo stimolo della fame, aveva divorato tutto quello che gli era capitato davanti di comunque commestibile. Era tutto, tranne che un buon gustaio. Non gli interessava affatto il piacere, quando il piacere consisteva in qualcosa di diverso dal puro odore immateriale. non gli interessava neppure la comodità e non gli sarebbe dispiaciuto prepararsi il giaciglio sulla nuda pietra, ma trovò qualcosa di meglio. Accanto al punto dell'acqua scoprì una galleria naturale che con una quantità di serpentine strette conduceva nell'interno della montagna per poi, dopo circa 30 metri, terminare in un punto costruito da un crollo. La fine della galleria era talmente stretta che le spalle di Grenouille urtavano contro la roccia e talmente bassa che riusciva a stare solo piegato, ma poteva stare seduto e se si contorceva poteva persino mettersi disteso. Era più che sufficiente per le sue necessità di confort e poi il luogo offriva vantaggi incalcolabili. In fondo al tunnel, persino di giorno, regnava l'oscurità più profonda. C'era un silenzio di tomba e l'aria emanava una frescura umida e salata. L'olfatto di Grenouille avvertì subito che nessun essere vivente era mai penetrato in quella caverna. Fu quasi sopraffatto da un sentimento di timor sacro quando ne prese possesso. Spiegò a terra con cura la sua coperta di cavallo come se coprisse un altare e vi si stese sopra. Si sentiva divinamente bene. Si trovava sulla montagna più solitaria della Francia a decine di metri di profondità sotto terra come nella propria tomba. Non si era mai sentito così al sicuro in vita sua. Nel vente di sua madre no di certo. Che il mondo esterno andasse pure in fiamme. Qui non si sarebbe accorto di nulla. Cominciò a piangere in silenzio. Non sapeva che ringraziare per tanta felicità. Nel periodo seguente uscì all'aperto soltanto per andare a leccare un po' d'acqua per liberarsi in fretta della sua urina e dei suoi escrementi e per cacciare sauri e serpenti. Di notte si potevano prendere facilmente perché si rifugiavano sotto lastre di pietra o in piccole cavità dove Grenoel li scopriva col proprio naso. Durante le prime settimane salì ancora una volta fino alla cima per fiutare l'orizzonte ma presto divenne più una fastidiosa abitudine che una necessità perché non una sola volta gli era capitato di annusare un pericolo. Così alla fine sospese le sue escursioni e dopo avere portato con sé le cose di prima necessità per la pura sopravvivenza cercava soltanto di rientrare nella sua tomba il più rapidamente possibile perché qui nella sua tomba viveva veramente vale a dire che stava seduto più di venti ore al giorno sulla sua coperta da cavallo in fondo al corridoio di pietra nell'oscurità nel silenzio e nell'immobilità totali la schiena appoggiata contro i detriti le spalle incassate tra le rocce e bastava a sé stesso. Si sa di uomini che cercano la solitudine penitenti falliti santi o profeti si ritirano di preferenza nel deserto dove vivono di locuste e di miele selvatico molti vivono anche in grotte e in eremi su isole fuori mano oppure si rannicchiano spettacolare davvero entro gambie montate in alto su stanghe e oscillanti nell'aria lo fanno per essere più vicini a Dio si mortificano con l'isolamento e se ne servono per far penitenza agiscono nella convinzione di condurre una vita gradita a Dio oppure aspettano per mesi o anni che nell'isolamento giunga loro un messaggio divino che poi vogliono diffondere il più rapidamente possibile tra gli uomini nulla di tutto questo voleva valeva per Grenoy Dio non gli passava neanche per la testa non faceva penitenza e non si aspettava illuminazioni dall'alto si era isolato dagli uomini soltanto per il proprio particolare piacere soltanto per essere vicino a se stesso era immerso nella propria esistenza non più distratta da altre cose e lo trovava splendido giaceva nella tomba di roccia come il cadavere di se stesso respirando appena quel tanto da far battere il suo cuore e tuttavia viveva in modo così intenso sfrenato come ormai un uomo di mondo aveva vissuto nel mondo teatro di queste sfrenatezze era e come avrebbe potuto essere altrimenti il suo impero interiore in cui aveva sepolto i tratti fondamentali di tutti gli odori nei quali si era imbattuto alla fine di rallegrarsi l'animo evocò dapprima gli odori più antichi più remoti l'esalazione fumosa ostile della camera da letto di madame guillard l'odore secco e coriaceo delle sue mani il fiato dal sentore d'aceto di padre terriè il sudore isterico caldo e materno della balia bussy il puzzo di cadaveri del cimetière des innocents l'odore d'assassina di sua madre e sguazzava nel disgusto e nell'odio e gli si rizzavano i cappelli in testa di piacevole orrore talvolta quando questo aperitivo di nefandezze non lo aveva animato a sufficienza si permetteva anche una piccola disgressione su grimal e gustava il puzzo delle sue pelli grezze carnose e delle conce oppure immaginava le esalazioni riuniti di 600.000 parigini nella calura fosa e opprimente della piena estate e poi ad un tratto questo era il senso dell'esercizio il suo odio accumulato e rompeva con potenza orgiastica piombava come un temporale su questi odori che si erano permessi di offendere il suo illustre naso li tempestava come fa la grandine su un campo di grano polverizzava quelle carogne come un uragano e le annegava in un immenso diluvio purificatore di acqua distillata così giusta era la sua collera così grande la sua vendetta ah che momento sublime grenoi quel piccolo uomo tremava dall'eccitazione il suo corpo si torceva in voluttuoso piacere e si inarcava verso l'alto di modo che per un momento urtava con la testa contro il tetto della galleria per poi ricadere lentamente indietro e rimanere disteso rilassato e profondamente soddisfatto era davvero troppo piacevole questo gesto eruttivo di estinzione di tutti gli odori sgradevoli davvero troppo piacevole questo numero era quasi il preferito di tutta la successione scenica del suo grande teatro interiore poiché comunicava quel sentimento meraviglioso del giusto sfinimento che fa seguito soltanto alle imprese davvero importanti eroiche ora poteva riposarsi per un poco con la coscienza a posto si stese con il suo corpo per quanto gli era possibile in quell'angusta stanza di pietra ma dentro di sé sulle praterie ripulite del suo animo si stese comodamente in tutta la sua lunghezza e si mise a fantasticare lasciandosi solletticare il naso dei profumi raffinati una brezza aromatica portata dai prati a primavera un tiepido vento di maggio che scorre attraverso le prime foglie verdi dei faggi una brezza marina acre come le mandorle salate era il tardo pomeriggio quando si levò tardo pomeriggio per così dire perché naturalmente non c'erano né pomeriggio né mattina né alba né tramonto non c'era luce e non tenebra non c'erano neppure prati di primavera né foglie verdi di faggi nell'universum interiore di Grenoilles non esistevano affatto le cose bensì soltanto i profumi delle cose quindi parlare di questo universum come di un paesaggio è un façon de parler sicuramente adeguata è l'unica possibile perché la nostra lingua è inadatta a descrivere il mondo percettibile con l'olfatto era comunque il tardo pomeriggio intendo una condizione un momento dell'animo di Grenoilles simili a quelli che si verificano al sud alla fine della siesta quando la paralisi del mezzogiorno si ritira a poco a poco dal paesaggio e la vita trattenuta vuole ricominciare la furente calura nemica degli aromi sublimi si era dileguata la marmaglia diabolica era stata sgominata le contrade interne erano nude e docili nella quiete la sciva del risveglio e attendevano che la volontà del loro signore si manifestasse e Grenoilles si levò come abbiamo detto e si scosse il sonno dalle membra stava in piedi il grande Grenoilles interiore rito come un gigante in tutta la sua magnificenza e grandezza splendido a vedersi quasi un peccato che nessuno lo vedesse e si guardava attorno fiero e maestoso si questo era il suo regno il regno incomparabile di Grenoilles creato e dominato da lui l'incomparabile Grenoilles saccheggiato da lui a suo piacimento e poi riedificato esteso da lui nell'incommensurabile e difeso con la spada spada fiammeggiante contro qualsiasi intruso qui vigeva unicamente la sua volontà la volontà del grande meraviglioso incomparabile Grenoilles e dopo aver annientato i cattivi odori del passato ora voleva soltanto che il suo regno esalasse profumi e andò con passo possente per i campi ammaggese e seminò profumi delle specie più diverse qua in abbondanza la comparsimonia in piantagioni di enorme vastità e in piccole aiuole intime spargendo i semi a pugni o interrandoli a uno a uno in luoghi appositamente scelti fin nelle regioni più remote del suo regno imperversò il grande Grenoilles il folle giardiniere e presto non ci fu più angolo in cui non avesse gettato un curranolo di profumo e quando vide che ciò era bene che tutto il paese era invaso dal divino seme di Grenoilles il grande Grenoilles fece scendere una pioggia di alcol etilico lieve e continua e tutto ovunque cominciò a germogliare e a spuntare e la semenza germinò sicché il cuore ne gioiva già le piantagioni erano tutto un rigoglioso ondeggiare e nei giardini nascosti gli steli erano in succhio le gemme dei fiori quasi scoppiavano dal loro involucro allora il grande Grenoilles ordinò alla pioggia di fermarsi e ciò avvenne ed egli inviò alla terra il sole tiepido del suo sorriso grazie al quale ad un tratto sbocciarono milioni di fiori in tutto il loro splendore da un capo all'altro del regno in un unico tappeto variopinto tessuto con miriade di flacconi di prezioso profumo e il grande Grenoilles vide che ciò era bene molto molto bene e alitò sulla terra e i fiori accarezzati diffusero profumo e unirono le loro miriade di profumi in un universale profumo di omaggio fatto di un alternarsi sempre mutevole tuttavia costante a lui il grande l'unico il meraviglioso Grenoilles ed egli troneggiante su una odorosa nuvola d'oro questa volta ispirò con le narici e l'odore del sacrificio gli era gradito e si degnò di benedire la sua creazione più volte ed essa lo ringraziò con giubilo ed esultanza e reiterati gesti di sublime profumo nel frattempo era calata la sera e i profumi si diffusero nell'aria e nel blu della notte si unirono in note sempre più fantastiche e era imminente una vera e propria notte danzante con grandi giganteschi fuochi d'artificio profumati ma ora il grande Grenoilles era un po' stanco e sbadigliò e parlò ecco ho compiuto una grande opera e piace molto ma come tutto ciò che è finito comincia ad annoiarmi mi ritirerò e per congedarmi da questo giorno laborioso mi godrò ancora una piccola gioia nei recessi del mio cuore così parlò il grande Grenoilles e mentre sotto di lui il semplice popolo dei profumi danzava e faceva festa volò a dalle spiegate giù dalla nuvola d'oro e attraversò il paesaggio norturno della sua anima tornò a casa nel suo cuore e Grazie a tutti.